Questo signore che vedete in foto, diciamo così, d'epoca, è impegnato in un saluto militare, è il generale Francisco Franco, detto il generalissimo, dittatore spagnolo, che si fece costruire appunto questo mausoleo, se non sbaglio dei combattenti, nel quale ha voluto la sua sepoltura, in questa valle dei caduti. Ora la Spagna, il governo, ha ottenuto, dopo tanta insistenza, che le spoglie del generale Francisco Franco siano trasferite in un cimitero qualsiasi alla periferia di Madrid. La cosa è preoccupante perché, secondo me, quando hai paura di un morto, e non è la prima volta che accade col mausoleo di Lenin, successo in Unione Sovietica, quando tu pensi che ci sia il problema della possibile emulazione di un morto, e vuol dire che hai paura di quel morto, non a caso anche sul Che Guevara, insomma le spoglie, vengono spesso le spoglie di questi personaggi che hanno determinato nel bene e nel male un tratto di storia, vengono occultate, fatte sparire per la paura del mito, un po' come quando Napoleone Bonaparte qui in Toscana scese e, insomma, ne abbiamo ancora, ne paghiamo le conseguenze di... A rezzo si dice alò. Alò, che deriva dal francese al no. E Napoleone, con un editto, fece sì che non si potessero fare più sepolture all'interno delle mura, ma praticamente inventò i cimiteri. La scusa primaria era quella di un discorso igienico, ma in realtà la paura era quella che chi vedesse la tomba di uno che per lui magari era un eroe, ne potesse emulare i gesti, le gesta. E quindi questo spostare questi feretri e averne paura, voglio dire, perché aver paura di un dittatore se tu pensi che la democrazia nel tuo paese sia così forte che nessuno penserà mai più alla dittatura, eh? Come vi fa? Perché il popolo alla fin fine, questi che voi chiamate mattarulli, insomma, come dicono, ad Avenibaffone, tornerà lui Corrandello, insomma, la gente, capito, quando si è scocciata di voi banali politici normali che ci avete sodomizzato fino ad ora con iniquetasse per sopportare i vostri lussi e le vostre autoblue, insomma, vi fanno girare i coglioni, o no?